Non pubblico un video consigli da tanto tempo, infatti sono veramente felice di potervene finalmente portare uno. Io sono Axel e sono qui oggi per portare alla vostra attenzione 5 anime con un protagonista OP che secondo me meritano almeno una visione. Prima di iniziare vorrei ricordarvi come sempre che questa non è una classifica e che gli anime inseriti in questo video sono messi in ordine sparso e non di preferenza. Nonostante questo, ho già fatto comunque dei video di quel tipo e ve ne lascio la playlist in alto a destra nelle schede. Se video di questo tipo vi piacciono, affidatevi, dategli un'occhiata. I cinque anime di cui vi parlerò oggi sono tutti anime che in un modo o nell'altro mi sono piaciuti e che vi consiglio di guardare, ma soprattutto, sono quasi tutti anime di cui ho già parlato nel canale quindi non mi soffermerò troppo su ognuno di loro anche perché altrimenti il video risulterebbe inutilmente lungo. Detto questo direi di non perdere altro tempo con le chiacchiere. Iniziamo. Partiamo subito da Bastard, una di quelle opere che per via della mia ignoranza relativa ai manga usciti pre 2000 non conoscevo. Quello di cui voglio parlarvi oggi, però, non è il suo adattamento originale, che risale al 92, ma il remake uscito proprio 30 anni dopo su Netflix. La storia è molto interessante e racconta le vicende di uno stregone oscuro potentissimo di nome Dark Snyder, che tempo prima scatenò una guerra per conquistare il mondo alle spese del regno di Metallicana, qui perse e fu sigillato nel corpo di un bambino di nome Lucien, amico di infanzia di Yoko, la figlia di colui che sconfisse Dark Snyder. Dopo anni di relativa pace, il regno viene attaccato dai seguaci dello stregone oscuro con l'intenzione di soggiogarlo sotto il loro volere. Qui Yoko è costretta per la prima volta a liberare lo stregone oscuro per salvare tutti i presenti dall'attacco. E lo stesso Lucien, a cui è molto legata, dopo aver liberato Dark Snyder e gli mostra a tutti i presenti la vera forza dell'umano più potente che ci sia, e mostra anche il suo carattere estremamente arrogante nei confronti di chiunque non sia Yoko, avvisando quest'ultima di provare anche lui tutto quello che prova Lucien nei suoi confronti. Credo di avervi detto anche abbastanza, se vi piacciono gli anime con i protagonisti OP, adesso sapete cosa guardare. A quest'anime ho anche dedicato un video che vi consiglio di guardare, ve lo lascio nella scheda in alto a destra. Personalmente non lo trovo uno dei migliori anime mai fatti di questo tipo, ma nonostante questo ha una trama molto carina e un bellissimo character design, tutto ruota attorno alle vicende di un uomo divenuto il più forte mago esistente, riuscito addirittura a sconfiggere gli dèi del suo mondo ottenendo il titolo di signore dei demoni. Nonostante questo però la sua vita non era felice come poteva apparire all'esterno e per questo decise di abbandonare i suoi doveri di sovrano e con un incantesimo reincarnarsi nel futuro. Finisce per divenire il figlio di due persone comunissime e prende il nome di Ard Meteor. Con sé però non porta solo i suoi ricordi ma anche le sue capacità che lo rendono ancora il più forte che ci sia. Da qui decide di provare a vivere una nuova vita in cui cercherà di farsi degli amici, imparare a comportarsi come una persona comune e soprattutto non sprecare questa nuova opportunità che si è creato. Durante la sua infanzia fa la conoscenza di un elfa di nome Irina con cui riuscirà ad empatizzare e che lo accompagnerà durante tutto il corso dell'opera. Insomma, anime più che valido per un video di questo tipo. Passiamo adesso a uno degli anime che più spero abbia un sequel il prima possibile. Noragami è uno di quegli anime che o lo si ama o lo si odia ed io oggi sono qui nella speranza di riuscire a convincervi a guardarlo per farvelo amare. Il protagonista di questa storia è Yato, un dio minore che per sopravvivere, non avendo un tempio né seguaci, lavora come tutto fare, andando in giro a risolvere i problemi di chi chiede il suo aiuto. Un giorno finisce per essere la causa della semi di partita della povera Yori, una ragazza che dal momento del loro incontro fatica a mantenere la sua anima all'interno del suo corpo. Così questo dio freelancer le promette di risolvere la cosa in cambio di farla divenire una sua seguace. Se vi dicessi il motivo per cui ho inserito Noragami in questo video potrei darvi dei bruttissimi spoiler, per questo mi limiterò a dirvi che Yato è ben più forte di quello che sembra, ma per il resto spero di cuore che lo scopriate da soli, non vi ho raccontato tutto della trama per lo stesso motivo, sono sicuro che un'opera come Noragami riuscirà a stupirvi di intrattenervi meglio di quanto pensiate, soprattutto se ne sapete al riguardo il meno possibile, così da poter trarre il massimo da questa esperienza. Non si vede che quest'anime mi piace tantissimo vero? Il penultimo anime di cui vorrei parlarvi è stata una delle più inaspettate rivelazioni del suo anno, almeno per me. A parte il suo essere estremamente banale sotto alcuni aspetti, non a caso il protagonista fa di cognome Vampyr, l'ho trovata una bella storia che nonostante abbia un protagonista veramente OP, riesce a non renderlo troppo un Deus Ex Machina, almeno sino agli ultimi episodi prima della sua conclusione. Come già detto, il protagonista si chiama Vampyr, ma della sua natura all'inizio non se ne parla, quindi facciamo finta di nulla. Kufa è un assassino facente parte di una certa organizzazione oscura che vive in un mondo completamente capovolto. Durante una delle sue missioni, il suo superiore gli fornisce un nuovo incarico, diventare il tutore di Melida Angel, la figlia di un nobile sospettata di non essere una figlia legittima ma di un tradimento da parte della madre, dato che nonostante sia una nobile non è riuscita a manifestare il suo mana. Nel caso Kufa trovasse delle prove a supporto di questa tesi, il suo incarico lo porterà ad eliminare Melida, così da far sparire le prove di quel tradimento. Nonostante il suo compito, Kufa rimane rapito dalla volontà di Melida e decide di mettere la sua vita nelle mani della ragazza, giurandole di renderla la migliore della famiglia, nonostante tutti i pericoli che una scelta simile comporterebbe. Non penso sia giusto dirvi altro, spero di cuore che Assassin's Pride riesca almeno ad intrattenervi. Sono ormai anni che aspetto una seconda stagione di quest'anime, ma non mi arrendo, sono sicuro che prima o poi riuscirò a vederne il seguito. Questo è stato uno dei primi anime che ho seguito quasi del tutto in simulcast per poi recuperarlo in seguito e finirlo del tutto. Prima non amavo gli anime di questo tipo, lo ammetto. Adesso ne cerco sempre di simili ed è il motivo per cui ancora adesso non perdo le speranze per un possibile annuncio di una seconda stagione. Il protagonista è Glenn, un ragazzo estremamente pigro che odia la magia e con un passato dubbio. Ritrovatosi disoccupato, un'amica riesce a trovargli un lavoro come insegnante di magia e, malgrado il suo odio viene costretto ad accettare, una volta diventato insegnante dimostra sin da subito i suoi modi particolari ed estremamente stravaganti di insegnare, che lo portano non essere particolarmente apprezzato dai suoi alunni, in particolare dalle due ragazze Rumi e Sistine. Quest'ultimo infatti lo sfida ad uno scontro di magia per dimostrargli che nonostante la sua carica di insegnante gli sia superiore, ma grazie a questo Glenn, nonostante sia comunque abbastanza stupido, riesce a mostrare le sue capacità ai suoi alunni rapendoli grazie alla sua profonda conoscenza delle arti magiche e alla sua saggezza appresa sul campo, a parte il suo essere estremamente idiota, credetemi, merita senza dubbio di essere definito OP. Buona visione. Ebbene direi che anche per oggi è tutto, spero che come sempre il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Non facevo un video consigli da tanto, quindi mi andava di tornare e fare questo video con un tema abbastanza semplice. Fatemi sapere se vi piacerebbe un video come questo ma a tema Isekai, dato che mi piacerebbe portarvene un paio e soprattutto non dimenticate di iscrivervi se non siete iscritti così da non perdervi nessun video che uscirà, perché credetemi ne sto preparando un paio di davvero interessanti. Vi invito anche a condividere il video se vi va con i vostri amici così da fargli scoprire qualche anime che magari si sono persi e chissà se questo video andrà bene potrei pensare di farci una parte 2. Bene, credo di aver detto tutto quello che volevo dirvi. Noi come sempre ci sentiamo, al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.